salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme questo top conchiglia il nome dato dalla forma delle coppe che sono a forma appunto di conchiglia con un design particolare guardate l'apertura al centro nella parte sopra lega al collo e nella parte sotto nella parte dietro verranno inseriti dei bottoncini per agganciarlo dietro quindi semplice da fare e soprattutto con 70 grammi di cotone io ho realizzato questo top che è una taglia sm quindi con meno di 100 grammi realizzate anche una taglia ml prima di presentarvi materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tik tok e lì cercherò con delle storie dei post e di anticipare quello che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò cotone fiocco della tonalità del turchese lavorerò con uncinetto numero tre e avrò bisogno un paio di forbici prendiamo il cotone e iniziamo a creare la nostra coppa quindi facciamo un cerchio magico entriamo con l'uncinetto prendiamo il filo realizziamo tre catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta e poi lavoriamo dentro il cerchio altre dieci catenelle e 10 maglie alte in tutto dobbiamo fare 11 maglie alte comprese le 3 catenelle fatte le nostre 11 maglie alte stringiamo la codina del cerchio e abbiamo come vedete metà di tutto il cerchio quindi abbiamo ottenuto una lavorazione a metà e così deve essere quindi rientriamo lavoriamo 3 catenelle e voltiamo il lavoro filo sull'uncinetto entriamo nella seconda maglia quindi la prima maglia e questa entriamo nella seconda maglia e lavoriamo 2 maglie alte nella stessa maglia una catenella e 2 maglie alte sempre nella stessa maglia quindi questo gruppetto filo sull'uncinetto ora abbiamo lavorato questa la prima sono le 3 catenelle la seconda abbiamo lavorato il gruppetto la terza è questa entriamo prendendola entriamo all'interno della lavorazione così e prendiamo la maglia prendiamo il filo e facciamo una maglia alta quindi prese in costa davanti filo sull'uncinetto nel punto seguente questo qua lavoriamo un gruppetto sempre fatto da due maglie alte una catenella e due maglie alte proseguiamo ripetendo nella prossima maglia la lavoriamo in costa la maglia alta nel punto successivo faremo il gruppetto di due maglie alte una catenella e due maglie alte nella maglia seguente la lavoreremo in costa il gruppetto in costa fino ad arrivare agli ultimi due punti che faremo insieme arrivati qui lavoriamo abbiamo appena lavorato il punto preso in costa il punto alto entriamo nel penultimo punto e facciamo il gruppetto che abbiamo fatto finora due maglie alte una catenella e due maglie alte nello stesso punto filo sull'uncinetto l'ultima maglia che sono le tre catenelle iniziali entriamo nella terza catenella e lavoriamo una maglia alta tre catenelle e voltiamo il lavoro comunque abbiamo creato così uno due tre quattro cinque spazi intervallati dalle maglie alte prese in costa invece la prima e l'ultima sono maglie alte normali voltiamo il lavoro e continuiamo la nostra lavorazione abbiamo fatto le tre maglie alte ora entriamo direttamente nel nello spazio della catenella e qui lavoriamo due maglie alte una catenella e due maglie alte quindi in questo giro ripeteremo quello che abbiamo fatto nel giro precedente filo sull'uncinetto quello che va a cambiare la maglia presa in costa davanti perché noi siamo nel rovescio del lavoro quindi cosa dobbiamo fare la maglie qui guardate prendiamo il filo entriamo nella parte dietro così prendiamo il filo lo portiamo e ci lavoriamo la maglia alta continuiamo lavorando il gruppetto nel foro di una catenella quindi due maglie alte una catenella e due maglie alte filo sull'uncinetto guardate prendiamo la maglia nella parte dietro prendiamo il filo così ce lo portiamo vi faccio vedere al rallentatore un pochino come fare e vi lavorate la maglia alta così continuiamo così infine alla fine lavorando l'ultima maglia nella terza catenella che ci ritroviamo prendendola in modo normale come abbiamo fatto all'inizio arrivati qui alla fine lavoriamo come vi ho già detto la terza catenella entriamo e facciamo una maglia alta 3 catenelle voltiamo il lavoro in questo giro quindi abbiamo fatto il primo giro di due maglie il secondo giro di due maglie e quest'altro giro lo dobbiamo fare sempre di due maglie alte una catenella e due maglie alte nel gruppetto quindi entriamo direttamente nello spazio lavoriamo due maglie alte una catenella e due maglie alte guardate la maglia presa in costa ora c'è la si presenta nel lato giusto la prendiamo così entrando con l'uncinetto e ci lavoriamo la maglia alta dopodiché continuiamo fino alla fine facendo sempre la stessa lavorazione due maglie alte una catenella e due maglie alte e la maglia alta presa in costa davanti così arrivati all'ultimo punto entriamo nella terza catenella e ci lavoriamo la maglia alta guardate prende come vedete si crea una forma bombata e questo è la lavorazione comunque procede esattamente perché deve prendere questa forma iniziale leggermente più bombata quindi non vi preoccupate perché non è un errore ma anzi è un è positivo che faccia così tre catenelle voltiamo il lavoro da questo giro nel gruppetto quindi nel nello spazio della catenella dobbiamo lavorare tre maglie alte 2 e 3 una catenella e 3 maglie alte 1 2 e 3 qui la maglia alta ci viene dal rovescio quindi prendiamo il filo sull'uncinetto entriamo nella parte dietro guardate lo prendiamo così facciamo passare il filo e facciamo la nostra maglia alta entriamo nell'altro gruppetto e lavoriamo sempre tre maglie alte 2 e una catenella scusate e 3 maglie alte 1 e 3 maglie alte prendiamo la maglia alta così la lavoriamo nella parte dietro e continuiamo così i prossimi giri dobbiamo lavorare 3 maglie alte una catenella e 3 maglie alte la maglia per come si presenti in questo caso la stiamo prendendo in costa dietro nel giro successivo in costa davanti e così via dei giri di questi gruppetti ne dobbiamo fare in tutto 5 quindi questo è il primo poi dobbiamo fare secondo terzo quarto e quinto sempre tutti uguali e noi ci rivediamo quando abbiamo terminato il quinto giro ho fatto i miei cinque giri di gruppetto di 3 maglie alte una catenella e 3 maglie alte guardate 1 2 3 4 e 5 totali qui ne avevamo fatti 1 2 3 di 2 maglie alte una catenella e 3 maglie alte questo è il risultato guardate di questi giri ora dobbiamo fare tre giri complessivi di 4 maglie alte una catenella e 4 maglie alte 2 3 e 4 una catenella e 4 maglie alte questa lavorazione comunque è fatta per una taglia sm però io vi consiglio nel frattempo di tutta la lavorazione prendete una coppa di un reggiseno che comunque vi stia bene anche di un costume comunque e prendete man mano le misure se avete una taglia di seno più grande qui al posto di fare ad esempio cinque giri di 3 maglie alte una catenella e 3 maglie alte potete comunque allargare un pochino quindi magari ne fate due giri di tre e iniziate subito con le quattro quanto man mano vi allarghi per bene la lavorazione nella stessa cosa se dovete fare la coppa più piccola magari fate qualche giri in più di due maglie alte una catenella e due maglie alte quindi rendete la coppa leggermente più stretta se magari la dovete fare per una ragazzina qui siamo nella parte del diritto quindi lo prendiamo in costa davanti la maglia alta e qui continuiamo a lavorare quattro maglie alte una catenella e quattro maglie alte 4 una catenella e quattro maglie alte questo ripeto lo dovete fare per tre giri quindi continuiamo la lavorazione come abbiamo fatto finora solo aggiungendo e facendo il gruppetto più grandetto e ci rivediamo quando abbiamo già fatto i tre giri ho terminato di lavorare gli altri tre giri di quattro maglie alte una catenella e quattro maglie alte guardate e ho terminato la misura della coppa vi voglio dire quanto è misurata misura questa coppa nella parte sopra siamo quasi a 17 cm e in lunghezza 12 cm e mezzo nella parte più alta come avete visto nel top questa verrà indossata così laterale quindi qui faremo la parte bassa nella parte di sopra dobbiamo fare le catenelle per poi legare al collo quindi dobbiamo ora procedere con un giro di maglie basse e inserire le catenelle però cosa facciamo le coppe ne dobbiamo fare due quindi una dobbiamo inserire in una da questa parte dobbiamo inserire le catenelle nell'altra dobbiamo inserire dall'altra parte vi faccio subito vedere così ci rendiamo conto io ho preparato già l'altra che è questa con le catenelle guardate quindi qui quando ho iniziato quindi in questo modo prima di iniziare ho fatto 150 catenelle e sono ritornati indietro con maglie bassissime e poi ho proseguito la lavorazione di tutto il contorno e ho ottenuto questo risultato da questa parte ricordatevi che dobbiamo ottenere mettendo le coppe così guardate per creare il top le catenelle le dobbiamo fare dall'altra parte quindi da una parte vengono fatte nella nostra sinistra nell'altra coppa viene fatta nella destra e quindi otterremo il risultato esatto delle catenelle per legarle al collo quindi avendo già questa fatta che nella nostra sinistra qui dobbiamo partire direttamente con le maglie basse e quando arriviamo a questo punto inseriamo le nostre catenelle facciamo una catenella entriamo nel primo spazietto che abbiamo e ci lavoriamo una maglia bassa poi entriamo nel negli spazietti lavorando due maglie basse per ogni spazio entriamo direttamente nell'altro e lavoriamo due maglie basse direttamente nell'altro due maglie basse proseguiamo per ogni spazio lavoriamo sempre le nostre due maglie basse due maglie basse due maglie basse qui la parte di sotto questa lavoriamo due maglie basse in questa maglia mentre qui dove c'è proprio l'anello abbiamo fatto l'inizio entriamo e lavoriamo una maglia bassa una la lavoriamo dentro l'anello magico e una sempre nella parte laterale dopo di che continuiamo e nello stesso tempo la codina di inizio quella del cerchio magico ce la lavoriamo e la sigilliamo e dall'altra parte proseguiamo lavorando sempre due maglie basse per ogni spazio fino ad arrivare qui arrivati al primo archetto lavorato una maglia bassa e ora mi aggancio all'ultima maglia qui alla prima maglia dell'archetto lavoro una maglia bassa e lavoro 150 catenelle fatte le nostre 150 catenelle entriamo nella prima che abbiamo prendendo la solina guardate e facciamo direttamente una maglia bassissima nella seconda maglia bassissima così continuiamo a fare le maglie bassissime ritornando indietro ed arrivando appunto alla base delle catenelle che abbiamo fatto arrivati qui di nuovo alla lavorazione dopo aver fatto tutte le maglie bassissime rientriamo entriamo nel punto successivo di quello lavorato e facciamo una maglia bassa per ogni punto entriamo nello spazio e facciamo una maglia bassa e lavoriamo sempre una maglia bassa per ogni punto fino ad arrivare all'altra estremità e chiudere il lavoro l'unica cosa che qui nella nella maglia alta presa in costa non dobbiamo lavorare alcun punto basso quindi andiamo direttamente dall'altra parte così quindi dobbiamo lavorare solo gli archetti compresi di catenella arrivati alla fine ci chiudiamo nel primo punto che abbiamo fatto con maglia bassissima catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo stringiamo ok e abbiamo completato la lavorazione della coppa guardate prendiamo l'altra quindi abbiamo le due coppe lavorate le dobbiamo posizionare in questo modo e ora possiamo iniziare a lavorarci la parte di sotto del top quindi prendiamo delle misure prendiamo i marca punti e così iniziamo la lavorazione ho inserito i marca punti alla stessa distanza contando gli stessi buchetti da una parte dall'altro qui deve venire poi l'aggancio la parte il triangolino e poi la parte di sotto prima di continuare e fare il pezzo di sotto vi volevo solo spiegare come prendere le misure della circonferenza del sottoseno o della vita insomma dove volete che arrivi il top quindi cosa dovete fare dovete prendere la misura e poi scalare almeno almeno di cinque sei centimetri anche sette la misura che avete perché deve venire aderente per venire aderente dovete comunque fare dei centimetri in meno non vi preoccupate se vi viene poi troppo corto perché facendo delle una piccola lavorazione che poi vi spiego come fare potete allungare a strisce poi legare oppure col bottoncino semplicemente agganciare io mi sono portata avanti e da questa parte ho lavorato 30 catenelle quindi mi sono agganciata col filo ho fatto catenelle maglia bassa nello stesso punto per agganciare meglio e lo la conto come catenella e ho fatto altre 29 catenelle da questa parte invece cosa facciamo voltiamo il lavoro quindi questa parte qua la lavoriamo dal rovescio prendiamo il filo e dobbiamo fare la stessa cosa dobbiamo lavorare 30 catenelle quindi entro nel punto di chiusura guardate mi aggancio sempre con catenella e maglia bassa nello stesso punto tiro la codina e stringo così il lavoro e faccio mi lavoro altre 29 catenelle voi prendete le vostre misure e lavorate le catenelle giustamente di tutta la circonferenza la divide e dividete di nuovo in due perché è suddivisa in due parti fatte le nostre 30 catenelle rimettiamo il lavoro così guardate potete anche fare che secondo me è la soluzione migliore arrivato a questo punto l'aggancio lo fate direttamente ecco agganciamo le due parti perfetto così non vi potete sbagliare qui dobbiamo lavorare mi raccomando dalla parte dritta quindi abbiamo fatto le nostre catenelle portiamo il lavoro così in questo modo e iniziamo a lavorare le maglie alte quindi qui dobbiamo aggiungere due catenelle filo sull'uncinetto contiamo 123 e in ci inseriamo nella quarta catenella facendo una maglia alta e poi lavoriamo per ogni maglia che abbiamo una maglia alta qui vi conviene prendere guardate le due costine della catenella perché vi viene una lavorazione più compatta lavorando le catenelle continuiamo a lavorare le nostre maglie alte tutta la catenella ogni punto che abbiamo a disposizione qui nella parte fino ad arrivare qui noi siamo agganciati al centro fino ad arrivare all'archetto precedente l'unione quindi ci lavoriamo tutte le maglie alte lavorate le nostre maglie alte guardate sono arrivata qui abbiamo il marker quindi in questo caso ho fatto l'ultima maglia alta entro nel primo punto che ho a disposizione del foro e vado dall'altra parte sempre nel primo punto così levo i marca punti che magari io ne ho messi due perché l'ho accavallati prendendo la misura dopo 1 e 1 2 levo il marca punto e mi aggancio direttamente faccio passare il filo e faccio una maglia bassa quindi nell'unione dopo di che dal punto successivo passo nell'altra coppa e mi lavoro sempre le maglie alte quindi aggancio i due punti da unire e faccio la maglia bassa e ricomincio con le maglie alte e qui dobbiamo continuare a lavorare le maglie alte tutto il contorno con tutta la catenella che abbiamo inserito terminato guardate tutta la striscia di maglie alte possiamo voltare il lavoro prima di continuare perché dobbiamo fare un altro giro di maglie alte qui al centro dobbiamo inserire una catenella quindi io prendo come punto di riferimento la parte centrale qui il cerchio magico della coppa quindi vado direttamente alla maglia alta alla maglia alta di sopra e la stessa cosa faccio dall'altra parte prendo come punto di riferimento e vado alla maglia alta che c'è qui di sopra e questo ok qui inserirò le mie catenelle quindi riparto da dove sono arrivata un attimino che qui si è ingarbugliato il filo riparto con le 3 catenelle entro nella seconda maglia alta faccio la maglia alta e mi lavoro una maglia alta per ogni maglia fino ad arrivare al marca punti arrivati al marca punti lo sganciamo ed entriamo nel punto marcato lavoriamo una maglia alta e qui facciamo delle catenelle che contiamo insieme due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici dobbiamo fare delle catenelle che ci permettano di avere di non tirare una parte o l'altra quindi ecco così quindi 12 catenelle possono andare bene nella maglia marcata dobbiamo fare direttamente la maglia alta quindi filo sull'uncinetto ecco ho perso la maglia marcata però la vado a recuperare in base ecco il mio calcolo e lavoro una maglia alta così questo è lo spazio che resta nella parte centrale e continuo a lavorare le mie maglie alte fino ad arrivare alla fine dall'altra parte di qui arrivati qui alla fine voltiamo il lavoro e iniziamo una lavorazione delle maglie incrociate semplicissima quindi le prime due maglie le facciamo sempre tre catenelle e nella maglia successiva facciamo una maglia alta filo sull'uncinetto saltiamo una maglia entriamo nell'altra e facciamo una maglia alta entriamo nella maglia che abbiamo saltato così e così dobbiamo fare per tutta la lavorazione saltiamo una maglia andiamo nell'altra e facciamo la maglia alta entriamo nella maglia saltata e lavoriamo una maglia alta facciamo così fino ad arrivare sulle catenelle e facciamo la stessa cosa perché dobbiamo lavorare qui saltando una catenella e andando poi a riprendere l'altra maglia in quella saltata quindi lavoriamo tutto il la riga qui ci chiudiamo sempre con le due maglie alte finali ri iniziamo con le due maglie alte e lavoriamo sulle sulle maglie quindi saltiamo la prima lavoriamo la seconda ora il primo giro lo terminiamo iniziamo il secondo insieme e poi possiamo proseguire da soli qui sto lavorando sulle catenelle io volevo far vedere la lavorazione quindi saltiamo una catenella entriamo nell'altra ci lavoriamo la maglia alta rientriamo nella catenella che abbiamo saltato e lavoriamo l'altra maglia alta qui siamo nell'ultima catenella entriamo maglia alta rientriamo in quella saltata e facciamo la maglia alta guardate abbiamo lavorato il pezzetto delle catenelle e ora continuiamo fino ad arrivare alla fine sempre facendo queste maglie alte incrociate arrivati qui alla fine guardate ci avanzano le nostre due maglie entriamo nella prima facciamo la maglia alta entriamo nella terza catenella della seconda e facciamo una maglia alta ci rialziamo con 3 catenelle e voltiamo il lavoro e qui ricominciamo sempre entrando direttamente nella prima quindi inizio e fine è uguale le due maglie alte eseguite correttamente dopodiché dobbiamo lavorare sulle maglie incrociate quindi saltiamo queste entriamo in quella successiva facciamo la maglia alta ritorniamo in quella che abbiamo saltato e facciamo la maglia alta continuiamo così lavorando direttamente sulle maglie incrociate delle maglie incrociate così e continuiamo così per un tot di giri in base la lunghezza del top quindi in base quanto lo vogliamo fare lungo continuiamo io poi vi dirò quanto ho fatto quanti giri ho fatto io ho lavorato in tutto 5 giri totali nella parte sotto quindi è un top che arriva veramente sotto il seno diciamo alla vita un pochino più in alto però se voi lo volete fare più lungo basta solo aggiungere dei giri quindi fare righe in più fino a raggiungere la lunghezza desiderata qui inserirò delle coppe le coppe le potete reperire tranquillamente su online quindi su internet nei vari siti di filati li vendono di tutte le misure oppure nelle mercerie più fornite qui inserirò dei bottoncini e in questi buchetti che crea il top stesso farò la l'aggancio se alla fine vi accorgete che vi manca spazio riprendete la lavorazione da questa parte e poi fate per ogni giro di una diminuzione da una parte una dall'altra fino a creare un altro pezzetto sia da una parte e sia dall'altra parte e poi inserite magari due bottoncini e lo legate quindi allungate le due parti del top potete anche continuare a fare questo questo questa lavorazione magari facendo maglia alta catenella saltate maglia alta comunque e allungate il vostro top nella parte laterale per questo motivo all'inizio vi ho consigliato di farla meglio più corta che più lunga così sarete sicuri che sta aderente nella parte qui di sotto qui ci sono i leghini per il collo quindi il top è completato io spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video